...vuole fare un video con voi, quindi faccio io le domande? Allora, questo è veramente una leggenda del Trento d'Oc, è il signore Lionello Letrari, che è uno dei più importanti enologi del Trento. Ah te no, il più vecchio diciamo. No, allora, la domanda è, questi sono vini con una grande tradizione familiare di questa zona, in uno stile veramente tradizionale, perché è questo? Ma direi che è il frutto dei 55 anni. 55 anni di lavoro, di sperimentazione, di continuo servizio, di circa l'intervento. Siete arrivati a questo stile. A questo stile da qualche anno. E come descrive lui questo stile dell'azienda? Direi tradizionale, abbastanza tradizionale, cioè niente di particolare, seguendo le stagioni, il tempo, l'andamento e anche il gusto del consumatore. Il gusto del consumatore, quindi abbastanza un gusto. Imponendo anche la certezza della qualità, cioè di quello che io penso, per inculcare anche nel consumatore un'idea che sia giusta, non trasmettere la malattica se non va, o quello che posso dire, dico che poi uno scelga 12 grammi di zucchero, e comunque indirizzo è questo, che ho fatto come torri cannazzi. In 1950 ho fatto come torri cannazzi. Wow. E allora, ostia. That's fantastic. Thank you so much. Grazie mille.